A che punto siamo? Sì, ho proprio inaugurato l'anno scolastico ad Aulla, proprio per dare un segnale anche di vicinanza della regione, che devo dire ha fatto tutto quello che poteva fare per mettere subito a disposizione i fondi per la ricostruzione. Lì ci sono stati dei problemi tecnici, sappiamo di bonifica delle aree dove le scuole devono essere costruite, però oggi siamo contenti perché sta partendo la costruzione della scuola primaria, dell'elementare. È già giunta a conclusione la scuola della materna e del nido e rimane solo da vedere la partita ultima della scuola media. A piccoli passi ci sono stati veramente tanti intoppi tecnici, però poi quando si vanno a costruire scuole bisogna che siano sicure, insomma quindi è bene che vengano fatti tutti gli accertamenti e le bonifiche del caso, però diciamo che un passo avanti lo abbiamo fatto.